Chi si vaccina contro il coronavirus non si ammala, ma si può infettare lo stesso e trasmettere la malattia se non porta la mascherina. Quando si vedrà l'effetto della vaccinazione, anche i più scettici la faranno. Queste le parole di Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center di martedì. Esistono pochissimi vaccini che danno immunità sterile e se incontro il virus sono totalmente impermeabile. Nel mondo reale, se sono vaccinato ho una barriera che mi protegge dalla malattia. Ma da vaccinato posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no. Quando si parla di efficacia si fa riferimento alla malattia, ha aggiunto la virologa. Il vaccino non è efficace al 100% contro l'infezione, ma la riduce drasticamente. Quando arriverà il vaccino, quindi, non ci sarà un liberi tutti. Oltretutto ci vorranno mesi per vaccinare tutta la popolazione. Servirà un piano molto ben organizzato. Il vaccino non è la panacea, è uno degli strumenti, ha detto ancora Capua.